megan e george hanno avuto una bambina ha delle insolite macchie chiare sulla pelle ciao piccola tuo padre è qui scegli la bambola giusta disegnale delle macchie sulla pelle e sui capelli mettile la biancheria intima gialla questa ragazzina è nata con una pelle unica sua madre la ama e pensa che sia la bambina più carina del mondo che la sua condizione si chiama vitiligine la mamma ha letto molti libri sull'argomento e ha condiviso le sue conoscenze con vicky così ha imparato che assolutamente perfetta così il papà ha deciso di regalare a sua figlia un ritratto per il suo compleanno guarda com'è carina i genitori ne sono sicuri la loro bambina è speciale ha un futuro radioso davanti a sé trasformiamo un normale asciugamano in un asciugamano per bambini taglia un quadrato e sigilla i bordi aggiungi un pezzo di tessuto a forma di triangolo per fare il cappuccio forma un paio di orecchie aggiungi le corna se la bambina delle cose che le somigliano può capire che è tutto normale disegna il viso e gli occhi vicky sarà comoda e al caldo dopo aver fatto il bagno e un asciugamano stile mucca trasformerà il bagnetto in un gioco divertente la mamma ha deciso di fare il bagno alla sua bambina è così divertente ci sono bolle ovunque megan avvolge sua figlia nell'asciugamano così la bambina non prenderà freddo tesoro guarda anche questa mucca delle macchie sulla pelle dipingi l'interno di una piccola bottiglia di bianco usa la colla caldo per modellare il collo a forma di tettarella una tettarella rosa il corpo maculato gli danno un aspetto unico è tutto confortevole nella cameretta cos'è successo piccola ti vedo triste hai fame la mamma sa come rendere felice la bambina quello che ti serve è del latte fresco man mano che la bambina cresce si sente sempre più amata usa una copertina e dei fogli per creare un album per vicky fai dei fori e infilaci il filo di ferro puoi portare questo album ovunque disegna una tavolozza su un pezzo di legno ci manca solo un piccolo pennello è ora di creare un capolavoro vicky è interessata all'arte sin da quando era piccola ama creare cose nuove soprattutto disegnare disegna tutte le cose che ama nel suo album la sua casa dove vivono lei e i suoi genitori e tutto ciò che c'è intorno voglio mostrarlo a papà george ama guardare disegni di sua figlia è il suo modo di esprimersi il papà si complimenterà sempre per i suoi lavori e le darà buoni consigli smontiamo un vecchio tempera matite copri la scatola con la pittura acrilica perlata ci sono già pronti dei glitter copri lo zainetto con degli stencil aggiungi una base adesiva e crea delle nuvole arcobaleno dobbiamo solo fare i contorni e aggiungere le cinghie in questo zaino ci sta tutto quello che le serve oggi per vicky è il primo giorno di scuola ha deciso di fare qualche lettura aggiuntiva per raccontare i suoi amici di se stessa ma è stata interrotta tesoro abbiamo qualcosa per te ora ti servirà uno zaino grazie mamma è bellissimo la bambina prende il suo zaino e va a scuola spero di fare nuovi amici ciao sono vicky e io sono sam cosa la tua pelle ha delle parti chiare altre scure non ho mai visto niente di simile prima posso toccarle sam se ti interessa puoi trovare tutte le risposte in questo libro puoi prenderlo in prestito per un paio di giorni i libri sono per i nerd macchia vieni qui dipingi una statuetta a forma di cane di marrone anche macchia delle macchie il suo pelo è davvero unico non riusciamo a immaginarlo con un pelo diverso vicky dondola sull'altalena quando sam arriva inizia a fare il prepotente allontanati dalla mia altalena stramba pensi di essere così speciale vicky non capisce perché sam sia scortese con lei e inizia a piangere il cane arriva a tirarla su di morale lo aveva già notato ma solo ora si accorge di quanto siano simili mamma mi sono fatta un nuovo amico non è della mia classe in realtà è un cane teniamolo lo chiameremo macchia cosa ne pensi gli piace anche a me il tempo passa vicky è diventato un adolescente e ha ricevuto un overboard per il suo compleanno sarà molto più facile arrivare al college dai mamma collega due ruote di una macchinina e dei pezzi di plastica triangolari incollali al centro attacca anche il parafango questo overboard rosa attira molta attenzione è perfetto per una ragazza come vicky aggiungi le macchie rendiamo le ruote più sicure copri il parafango con lo smalto trasparente i talent scout spesso cercano nuovi talenti nei parchi e nei negozi oggi vicky sta andando con il suo overboard nel parco scusi non sono ancora molto brava ma la gente nota subito la bellezza della ragazza non importa è un aspetto molto particolare abbiamo bisogno di te nella nostra agenzia siediti a un'offerta per te così la gente racconta vicky tutto sull'agenzia e l'opportunità di diventare modella e ha invitato vicky a parigi chiamami in qualsiasi momento taglia un pezzo di pelle artificiale per fare una borsa crea una cornice stabile usa gli anellini e un pezzo di pelle artificiale per fare la maniglia e la cinghia una fibbia di design decora la borsa e c'è una catena sul lato vicky è venuta in un negozio per cercare l'accessorio perfetto l'addetta alle vendite è pronta ad aiutarla ti piace questa no non è il mio stile ok che ne dici di questa è un'ottima scelta wow concordo la prendo grazie per l'acquisto cercherò di inserirci tutto foto promozionali scarpe asciugacapelli una spazzola sì questa borsa è proprio quello che mi serve ogni modella ha bisogno di un portfoglio questa copertina è proprio in stile vicky metti tutte le foto del servizio fotografico nelle bustine di plastica aggiungi gli anelli ora il portfoglio è davvero fantastico la gente sta parlando con una famosa fotografa quando arriva vicky la fotografa è rimasta affascinata dal suo aspetto e ha scattato delle foto davvero sorprendenti bella questa girati un po di lato e sorridi ora vicky ha un book da modella professionale questa è una cosa molto importante da avere dipingi parte di una valigia di bianco aggiungi un design luminoso e copri con gli adesivi non confonderai questa valigia con un'altra in aeroporto vicky ha preparato le sue cose sta per andare a parigi ha firmato un contratto da modella e ha prenotato i biglietti è ora di partire e la sua famiglia piega un paio di foglie di carta fissali all'interno di una copertina rigida e copri l'album con della pelle artificiale ogni foto ci mostra una pagina della vita di vicky fai una scritta questo è un album dei ricordi è il momento di salutarsi i genitori non vogliono stare lontani dalla figlia per così tanto tempo ma per lei è un viaggio importante abbi cura di te tesoro buon viaggio vicky guarda le foto nel suo album anche la gente è interessata alle sue foto la gente per le strade di parigi l'ha riconosciuta anche la barista sa chi è vicky quella è vicky wow tu sei vicky runi posso avere il tuo autografo e poi vicky nota qualcuno sam sei tu sì scusa allora ero un ragazzino cattivo salta fuori che a sam piaceva vicky ma non aveva idea di come parlarle e ora lavora qui vicky lo perdona e iniziano a parlare come i vecchi amici ti è piaciuto il nostro video premi like e iscriviti all'alilu abbiamo molti altri fantastici lavoretti e interessanti storie per te